bene ragazzi per le video lezioni proviamo ad utilizzare questa applicazione gratuita che si chiama Cisco WebEx Meetings è un'applicazione gratuita che potete scaricare gratuitamente appunto sia per i telefonini Android che per i telefonini Apple in realtà esiste anche la versione per tablet e per computer poi casomai vedremo se qualcuno vuole utilizzarla tramite computer allora si scarica dallo store cliccando sul pulsante ottieni qui c'è una schermata che prevede appunto la spiega un pochino quali sono le funzioni e dovete scaricare questa applicazione una volta scaricata lanciate l'applicazione e nella schermata dovete chiedere di partecipare ad una riunione questo è importante perché in questa applicazione non è necessario avere un account basta conoscere esclusivamente l'indirizzo della riunione che è quello che nella schermata appunto successiva di partecipare a riunione dovete digitare e l'indirizzo adesso provvisoriamente è questo poi se cambierà ve lo dirò dovete scrivere https poi ve lo scriverò sulla piattaforma edmontomai.webex.com slash meet slash aula nel campo nome mettete il vostro nome e cognome poi c'è da mettere anche un indirizzo email che in realtà non è importante che sia una mail reale potete scriverne anche una fittizia però voi in ogni caso avete la vostra mail che vi ho fatto del del Gandinarni potete mettere tranquillamente il nome punto cognome chiocciola Gandinarni punto it fatto questo dovete cliccare sul pulsante in altro partecipa e attendere la connessione chiaramente questa dipenderà dalla linea che voi avete però normalmente funziona diciamo abbastanza bene quindi ci vuole un pochino di pazienza nella schermata che compare occhio al procedere con l'accesso in basso nel senso che troverete due pulsanti per attivare l'audio per attivare il video per partecipare allora voi dovete attivare il video e disattivare l'audio quindi deve essere come avete visto il microfono rosso e la telecamera verde questo punto cliccando dopo aver cliccato su partecipa ci vuole un attimo di pazienza dopo un po' vi comparirà l'immagine dell'insegnante che è chiamato organizzatore per poter parlare dovete chiaramente attivare il microfono quindi il microfono che è rosso deve diventare nero e poi una volta parlato rimetterlo rosso se no si riesce a fare la lezione esiste poi una chat che è sempre attiva basta cliccare sui due puntini e l'opzione chatta con tutti questo punto la schermata della chat è a disposizione dove potete scrivere quello che volete tutti lo visualizzeranno e leggere quello che l'insegnante o anche gli altri gli altri compagni di classe potranno scrivere con la freccetta in alto a sinistra si ritorna alla schermata iniziale per abbandonare la riunione c'è il pulsante rosso con la x e grazie per l'attenzione